Il Consiglio regionale si appresta ad approvare una legge per riconoscere la lingua dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva, istituendo l'albo regionale degli interpreti della lingua dei segni italiana. Così il Presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, che ha partecipato a Venusa alla prima giornata di Un giorno da segnare, manifestazione proposta dall'Associazione Vicolè per far conoscere il dinamismo del Festival Internazionale del Cinema Sordo di Roma. Il Corecom Basilicata, ricordato Mollica, è stato il primo in Italia a sottoscrivere un'intesa con la RAI per assicurare l'edizione LIS del Tg3 regionale ed a sostenere l'edizione settimanale del TgWeb LIS del Consiglio regionale. Bisogna integrare la proposta di legge, ha concluso Mollica, con una norma che stabilisca il livello di interpretariato. Occorre soddisfare ciò che il mondo dei sordi chiede e non quello che pensa di sapere il legiferatore.